ciao ciao amici benvenuti e bentornati qua sul mio canale sono di notte in piena notte perché in esclusiva da lucca collezionando grazie alla jungle praticamente abbiamo acquistato ragazzi guardate qua questo pinopino dal fantastico mondo dell'incantevole crimi ci mancava lui perché erano già usciti posi e nega come ben ricordate e quindi grandissimo matteo grandissima jungle che è andata a produrci il nostro pinopino vedete qua così ci va a far completare i personaggi almeno una parte dei personaggi quelli più fondamentali del mondo di crimi della nostra crimi allora devo dire la verità lui è fatto benino e carino mi aspettavo qualcosa di più forse quello che sta un pochettino sono le dimensioni perché è molto 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 piccolino però giustamente in scala anche con posi e nega quindi cosa facciamo adesso andiamo a unboxare come facciamo sempre lo vediamo da vicino proprio bene 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 nel dettaglio vediamo come il printing come la verniciatura come lo stampo ma tutto sommato è carino e per chi aveva comunque già pose nega era d'obbligo l'acquisto del nostro pinopino quindi unboxiamo allora all'interno vediamo troviamo soltanto questo sacchettino col nostro pinopino allora andiamo a vedere bene 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 allora la parte del testolone vedete fatta discretamente bene il printing c'è ed è fatta discretamente dai bene direi adesso vi faccio vedere subito una cosa che bello lucido è fatto benino la posa è carina però guardate cosa non mi è piaciuto ragazzi se non andiamo a girare dietro si vedono proprio l'attacco vedete dei pezzi della testa questa cosa qui non mi è piaciuto un gran che guardate a vederlo da dietro è vero che poi noi in vetrina lo mettiamo così comunque va considerata anche questa cosa qui quindi se non lo mettiamo così di schiena alla vetrina a fianco a posi nega ci sta non si vede dovremmo andare a fare così per vederlo praticamente sotto comunque lui vedete carino tutto sommato così è fatto discretamente bene parte frontale laterale ci sta dentro non mi piace parte dietro ma soprattutto anche perché si vede l'aggancio vedete come se fosse composto da tre parti questa parte del corpo la parte delle braccia la parte della testa quindi si vedono i due agganci che questa cosa potevano fare il corpicino con le braccia un pezzo unico ragazzi invece così questa cosa qua devo dire la verità vederlo da dietro non mi piace però tutto sommato noi lo vediamo così così ci sta anche dentro facciamo l'ultimo giro veloce ma questa qua una figura statica quindi è inutile prolungarsi troppo nella recensione andiamo a vedere printing degli occhietti del sopracciglio della bocca vedete non ha sbavature tutto sommato vedete fatto bene su un tendino anche qua ha fatto bene e dai ci sta doveva essere un pedino secondo me più grosso e poi fondamentalmente un pedino più grosso e evitare questo triplo attacco qua così però dai siamo contenti perché comunque teo ci fa tutte quelle cose che non esistono e ci vanno comunque poi a completare la nostra collezione da vediamo un secondo solo girare poi concludiamo eccolo qua amici guardiamo il nostro pino pino vediamolo girare diciamo che come possiamo vedere quando lo vediamo in vetrina davanti come già detto è molto carino fatto benino non mi piace soltanto la parte dietro perché anche le orecchiette a punta così sono molto carine fatte molto bene diciamo che potevano integrarlo con qualcosina farlo numerato potevano mettere una stampa di un cartonato da mettere dietro in esposizione essendo una figura così piccola potevano andarli comunque integrare qualche oggetto all'interno secondo me qualche oggettino si poteva andare pure a inserire un bel accessorio però dai vabbè non lamentiamoci ragazzi comunque ci stanno quelle di jungle facendo veramente tutte quelle figure che va considerate che non esistevano in commercio si di pino pino c'era qualche gascia con c'era qualche minifigure o qualche figura ormai vintage introvabile ma e quindi di averla comunque in collezione fa secondo me la sua bella scena come vi ho fatto già vedere io ho preso anche lacrimi quella gigantesca ho preso sempre della jungle posi nega e quindi adesso in vetrina andrò a integrare in mezzo a posi nega anche il nostro pino pino sono comunque contento dell'acquisto anche se me lo aspettavo un pochettino più dettagliato un pochettino più grande magari con qualche accessorio però dai ci sta ci sta per quello che ho già detto perché comunque ci fa integrare la nostra collezione sull'incredibile crimi che noi adoriamo così tanto quindi adesso questa figura non è che poi dopo c'è da fare una grandissima recensione quindi io andrei anche a concludere la nostra piccola recensione breve lampo flash recensione concludiamo dicendo che il nostro pino pino ragazzi tutto sommato guardate è carinissimo è fatto discretamente bene peccato come ho già detto per questa parte dietro che proprio dove si vedono gli agganci non mi è piaciuta però lui il printing c'è lo stampo c'è come vediamo non c'è sbavature dovevano mettere qualche accessorio in più la nota dolente di questo pino pino carinissimo comunque carinissimo che ci va a completare la nostra collezione il rapporto qualità prezzo perché guardate come piccolo veramente saranno 10 15 grammi di personaggio e rapporto qualità prezzo secondo me non ci siamo perché questo qui ci costa praticamente un'ottantina di euro e secondo me è veramente un po troppo per la figure che tutto sommato anche se è carina secondo me 80 euro in questo caso non vi vale erano più grandi più cicciottelli più pafutelli pose nega potevano anche arrivare a costare quella cifra che costavano che hanno sempre un'ottantina di euro cada uno ma pino pino essendo più smizzo e magrino vedete come magrino smizzo è veramente più piccolino rispetto a pose nega secondo me 80 euro è veramente eccessivo sapete che io dico sempre quello che penso ma comunque ringrazio jungle per queste figure che ci fanno completare le nostre collezioni quindi che dire come dico sempre se vi è piaciuta la recensione pollice un'alzato un bel like che il pollice non ve lo tagliano attivate la campanellina ma soprattutto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale un saluto al carletto un saluto da pino pino alla prossima recensione ciao 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 ciao